Ciao a tutti, è il 24, è la vigilia di Natale e vediamo, proprio strappando via, che cosa abbiamo qua, spostiamo e vediamo un po', io so già che progetto è ovviamente, abbiamo il progetto numero 9, ci sono delle carrier beads, delle paisley, delle iris duo, dei mezzi cristalli da 4, delle 8.0 e delle 15.0 e abbiamo un solito gancetto, so già che questo è un bracciale, so già che ha moduli e questa volta penso di non poterlo fare in modo furbo, quindi vediamo un pochino che cosa riuscirò a tirare fuori, quindi io preparo tutti i modulini e poi ci vediamo. Eccolo qua il progetto del giorno, devo dire che mi piace veramente, veramente tantissimo, sono riuscita a farlo senza dover fare i modulini, l'ho fatto tutto quanto in lunghezza e poi ho fatto la decorazione, sono molto contenta di come è venuto, mi piacciono tanto i colori, in particolare le rocaie, che sembra un petrolio esterno con un bianco all'interno e penso di averle già viste una volta, ma non le ho mai acquistate, non so che codice abbiano, se lo sapete fatemelo sapere, che magari non vedo l'ora di comprarle adesso. Ho fatto un errore, vedete, ho messo la Iris Duo centrale, l'ho messa in quella posizione lì, in orizzontale rispetto a tutte le altre che sono in verticale, cioè voi le vedete al contrario ovviamente adesso, quindi la vedete nello stesso senso delle carrier beads, mentre le altre sono tutte quante in senso opposto. Ho tenuto così soltanto la centrale, così alla fine, anche se è un errore, sembra quasi voluto, quindi è viva. Cosa devo dire? Tirando le somme sono molto felice di aver acquistato questi progetti, mi sono piaciuti, beh almeno la metà dei progetti li ho trovati veramente soddisfacenti, poi della restante metà direi che un'altra metà, quindi un quarto, mi sono piaciuti fin là, però sono comunque stati interessanti da fare, il restante quarto probabilmente le disferò e li butterò, o ne butterò via alcuni pezzi, non lo so, vedremo. Penso che recupererò le perline appunto di 3-4 di questi progetti. Ci tenevo a farli per il canale, sono contenta di aver portato a termine questo mio progetto, che non era niente di che, però alla fine è stata una sfida con me stessa, sono contenta di averla portata a termine. Non ho messo il gancetto al bracciale neanche questa volta, perché come vedete il gancetto è in color nickel, color acciaio, non nickel, e lo volevo in oro, siccome ne ho in oro adesso farò una sostituzione io perché mi piace che siano abbinati. Sono ancora un po' indecisa sull'aggiungere eventualmente dei mezzi cristalli sulla parte esterna tra le due paisley e accoppiarli a delle perline, a delle roccaie sulla parte esterna per dare una conclusione come piace a me, senza lasciare buchi liberi, però insomma devo dire che anche così a me in realtà non dispiace questo progetto, quindi vedremo. Cosa dire? Io auguro a tutti voi che mi avete seguita e anche a chi non mi ha seguita, ma magari guarda questo video, buon Natale, buone feste in generale, e spero veramente che passiate delle feste con chiamate e con tanta gioia e serenità. Cosa dire? Grazie a tutti e quindi a presto. Ciao!